Sono già nel centro vaccinale di Bazzano i primi vaccini anti-Covid prodotti da Pfizer e aggiornati alla sottovariante Omicron conosciuta come Kraken. Questa mattina nel centro vaccinale di Bazzano già c'erano le prime persone a farsi somministrare il vaccino anti-Covid. Ufficialmente però, insieme alla campagna antinfluenzale, si partirà martedì prossimo. A dare i numeri sulle dosi è stata l'assessore regionale della sanità Nicoletta Veri proprio ieri. Ulteriori forniture arriveranno il 16 e il 20 ottobre con cadenza quasi settimanale. Le dosi sono gratuite per chi le riceverà. L'indicazione è vaccinare 5 categorie, ma anche familiare e caregiver di persone fragili. In base alla disponibilità però tutti i cittadini potranno richiederlo. Ma i numeri delle vaccinazioni a livello generale, soprattutto per quelle pediatriche, vanno benissimo. E la ASL 1 dell'Aquila si colloca anche al di sopra della media nazionale. Comunque chi vuole può già andare presso il nostro hub. È importante fare questo vaccino, lo dico subito, soprattutto per gli ultra 65 anni, direi anche gli ultra 60 anni, anzi gli ultra 60 anni è meglio. E per tutte le categorie a rischio, le persone che hanno malattie croniche, le persone che anche che vivono a contatto con persone malate, oppure persone che accompagnano, diciamo, persone con difficoltà. Quindi è un vaccino importante, anche perché questa variante è altamente diffusiva, come avete visto. I casi sono in netto aumento. Ecco dottore, già avete avuto delle richieste, fermo restando che se ci sarà disponibilità ogni cittadino, anche che non rientra nelle 5 categorie previste dal Ministero, può chiederlo. Le richieste ci sono state, come ho già detto, e sono abbastanza numerose. Sì, qualora ci sarà disponibilità di dosi, e sicuramente ci saranno, qualunque cittadino, dopo le categorie a rischio, le potrà sicuramente fare. I vostri hub hanno funzionato benissimo. Adesso c'è questo di riferimento di Bazzano. Insomma, tutte le vaccinazioni che avete fatto precedenza, e anche quelle in età pediatrica, continuano, e l'ASLA è molto organizzata in questo senso. No, noi per le vaccinazioni abbiamo ottimi numeri. Per quanto riguarda le vaccinazioni pediatriche, siamo sopra la media nazionale, e questo ci conforta. Per quanto riguarda le vaccinazioni di influenzali, abbiamo avuto un calo, ma questo è stato legato anche al fatto che dopo il lockdown, dopo il periodo di distrettezza, c'è stato un senso quasi di rilassatezza da parte delle persone.